La curva dei contagi in Campania è in salita. Il governatore Vincenzo De Luca ancora una volta accelera annunciando possibili soluzioni ancora più drastiche se il numero dei guariti non sale rispetto al valore assoluto dei positivi. Bisogna fare attenzione per scongiurare un aumento vertiginoso dei contagi. Bisogna rispettare le regole. Lo ha ribadito ancora una volta questa mattina a Salerno. Dobbiamo tutti quanti rispettare le regole. Sto ripetendo in maniera ossessiva che basterebbe che tutti quanti indossassero le mascherine sempre per risolvere il 90% dei problemi. Sempre incredibile ma è così. Allora dobbiamo essere rigorosi perché non dobbiamo perdere il controllo della situazione. Abbiamo preso le decisioni nei giorni passati come sempre anticipando quelle del governo nazionale e di altre regioni. Abbiamo fatto un lavoro di prevenzione che non ha fatto nessuna regione d'Italia dal 12 agosto rendendo obbligatori i tamponi a chi rientrava dall'estero. Lo abbiamo fatto solo in Campania. Poi abbiamo fatto i test sierologici a tutto il personale scolastico. Il 90% del personale ha avuto i test in Campania su una media nazionale del 60%. Abbiamo dato alle scuole a spese della regione termoscanner e sistemi di controllo. Abbiamo introdotto da ormai 15 giorni l'uso obbligatorio e la mascherina anche all'esterno. Cioè abbiamo fatto da due mesi un lavoro di prevenzione sapendo quello che ci ha aspettato. Oggi però i contagi non fanno escludere, lei lo ha già annunciato, anche possibili ulteriori restrizioni fino ad arrivare ad un ulteriore lockdown. Ma questo ovviamente è un appello ai cittadini perché al lockdown non si arriva se tutti assumono le proprie responsabilità. Pensiamo ad essere rigorosi nei comportamenti. Le cose che abbiamo decise sono estremamente equilibrate. Avevamo un problema che riguardava la movida, abbiamo registrato comportamenti irresponsabili, centinaia di ragazzi che si ammucchiavano, cose che non potevamo tollerare, ovviamente se vogliamo contenere il contagio. Questo fine settimana sicuramente sarà una prova del 9? Sarà una prova della responsabilità che hanno tutti i nostri concittadini e i giovani in particolare. Allora, se vogliamo evitare nuove chiusure, la ricetta è semplice, rispettare le regole. Per il resto noi siamo impegnati a garantire i posti letto per eventuali contagiati, a moltiplicare il numero dei tamponi. Potete vedere ovviamente seguendo le televisioni e i giornali nazionali che c'è una campagna di aggressione mediatica rispetto alla campagna. È come se volessero giustificare i disastri fatti in altre parti d'Italia con quello che è l'aumento del contagio in campagna. Non pensiamo a queste stupidaggini, pensiamo a rispettare le regole. L'obiettivo che abbiamo noi è di garantire la sicurezza per i nostri concittadini. Lei ha fatto appello ad avere maggiori forze dell'ordine, perché no anche l'esercito, ma sappiamo bene che gli uomini sul territorio sono pochi, bisogna garantire la sicurezza, bisogna garantire il rispetto delle misure anti-Covid. Cosa si può fare? È una situazione non facile da gestire, perché poi registriamo a bordo dei pullman, dei treni, delle metro, tante persone, i ragazzi fuori dalle scuole. Non sono solo i luoghi al chiuso dove si riesce a gestire e a regolamentare le persone e a creare il problema. Abbiamo appena finito di dirlo. Se non c'è senso di responsabilità i problemi si aggravano. Sui pullman, sui treni si viaggia sempre con le mascherine. L'ordinanza della regione prevede che se c'è anche una persona senza mascherina si deve fermare il pullman e la persona va denunciata e contravvenzionata. Dobbiamo avere comportamenti rigorosi e responsabili. Se sarà così noi non avremo grandissime emergenze. Ovviamente dobbiamo sapere che rispetto a sei mesi fa abbiamo due novità che allora non c'erano. L'apertura dell'anno scolastico e la stagione dell'epidemia influenzale. E questo ci obbliga ad essere ancora più prudenti e ancora più responsabili. Oggi la maggior parte delle persone ha le cure domiciliari ma il sistema territoriale, le ASL riescono a reggere questo impatto, questi numeri. Spesso i pazienti si sentono un po' abbandonati anche nel poter proseguire nelle terapie. Credo di no, sinceramente. Anche qui il meccanismo per i tamponi è semplice. Quando vai a domicilio ovviamente l'ASL ti segue nel tuo isolamento domiciliare. Parliamoci chiaro, anche qui tutti i cittadini sono in grado di farlo da soli l'isolamento domiciliare, di misurarsi la temperatura e di comunicarla al medico e ai famigli. Non è complicato. Quello che non si può fare è essere in isolamento domiciliare e dopo due giorni andare in mezzo alla strada. È pure, dandosi alibi, dire non mi fanno i tamponi. Noi stiamo cercando e saremo pronti la prossima settimana di fare i tamponi veramente in tempi rapidissimi, dando i risultati in tempi rapidissimi. Ma dobbiamo evitare quello che è successo a Napoli. Se centinaia di persone si presentano una mattina davanti a un ASL e pretendono di fare immediatamente il tampone, danno solo fastidio e compiono atti scorretti. Perché la prescrizione del tampone la deve fare il medico di famiglia che ti inserisce nella piattaforma regionale, quindi tu ti registri e massimo in 24 ore ti fai il tampone. Ma se tutti quanti vanno a ruota libera è evidente che salta la programmazione delle ASL. Le ASL oggi hanno queste priorità, le scuole e le presidenze per anziani e quindi non devono essere distratte da questo programma. Poi arriveremo a tutti i cittadini. Ripeto, basta un minimo di senso di responsabilità e non avremo grandi problemi.